siamo tornati sullo stable guys c'è bisogno di un aggiornamento ecco abbiamo fatto un aggiornamento a scaricamento risorse essenziali vediamo cosa vedete ragazzi, cosa ci dite? vabbè per fare la partita? no, ci sono un giro brentes allora devo prendere un giro brentes ma che vuoi che vuoi dire? ora non mi posso più fare che cagata guarda 5G e vabbè ma è una speciale ma che cagata ma aspetta ma tu hai così tanto? non puoi vai vai si hai riscattato pure quelle città no, non l'ho riscattato ma tu dai hai fatto la partita e che buona mè e che buona mè tu imbrogli e che ci posso fare? no, non va bene che imbrogli ma papà ma sta mancando quel video mi devi dare il cellulare e che mi vuoi dire? e che vuoi dire? e che vuoi dire? e che vuoi dire? come? allora ragazzi cosa ne pensate dei nostri video? cosa ne pensate? belli brutti belli brutti bellissimi che siamo bellissimi siamo bravissimi e che vuoi dire? a che ricordo? ma state zed e sono belli iscrivetevi a noi oh block dash e dopo ci vedrai cosa più di vista come mai ci do block dash? e mi ha iniziato da ora come mai ci do block dash? no 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 ma ma questi sono forti alcuni e che c'è in bocca no ma questi sono forti e ciao ma questi sono forti qua ma questi tirano gli abbracci tirano gli abbracci eh no ma che c'è un cibo che è uno capire cosa hai col bici? non manco io capito capire bambas c'è un cibo c'è un cibo no 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 all'ultimo ho eliminato mio figlio ho perso ma come mi dispiace oh eh ma io posso no ma come mi dispiace pimenti no ok 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 ho perso, dai che ho perso siiii sei contentissimo come ti permetti fai il tuo che è il tuo volta più forte nel mio che è fatto per fattare che è fatto per fattare per scusare per scusare non sa giocare wow, non è no non sa giocare non sa giocare non sa giocare non sa giocare ascolta voi ragazzi sa giocare mio figlio Sì! Sì! C'è un po' che ne portano noi? E' un piano! Sì! Guarda, il mio figlio è già arrivato al finale! È già arrivato! Guarda che gli faccio con il mio figlio! Opla! Tubidino! Guarda, ho la besta durata! E' entrata, è venuta! E ci vuole? Non hai toccavo di niente! A volte è più stupido questa ferma lì! Questo è peggio del che è peggio! Allora, sapete che sotto il ponte dove si scivola non c'è niente? Guarda, qua c'è il pavimento! Qua sotto c'è il pavimento! Questo non c'è più niente! Oh! Beh, beh! No, dai, così dopo arriva una partita brutta! Bruttissima! Lo sto scherzando un po' qua! Sono cose serri queste! Ah, il tuo pello! No, qual è? Ma hai visto la valigetta? Ma hai visto la mia valigetta? Com'è andata? Ma... Altro passaggio! Oh! 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 Ci stia a salvare di brutto! Oh! Allora si! Qualificate! Sono caduto! Ho la mia valigetta! Oh! Oh! Oh, oh! Oh! e vincere tu e chi ce l'importa a noi e io facci ballo oh c'è anche il laser ragazzi oppa questa è la del dash, non è l'acqua com'è che si aggirà? è il coltrex? si tu non sai giocare tu qua, tu l'hai, guarda un po' chi ha vinto allora mi prendi lo schermo, questa porta su metterò il box ah c'è pronto Rex dai eh te l'ho detto vediamo se si unisce con lei chissà se ha visto mai un video dove c'è anche lui a giocare ci dovrebbe essere lui a giocare si ma non si collegano eh non si collega, e allora andiamo avanti dai l'ultima volta le facciamo e poi andiamo avanti a posto, ciao ah please no andiamo avanti va, va lo sapete che questo box era senza maglia? c'è poi si può leggermente notare e allora come fa ad avere quella scritta? che sai c'è detto tu altro? ah direttamente alla prima partita laser dash ma allora è il continuo della seconda partita c'è il continuo della seconda partita che abbiamo fatto la posta è già la pezza mamma questi sono forti qua questi hanno tutte le scherziolotti oh ma ora non mi devi vedere l'ho eliminato dai mamma non mi devi vedere andiamo a finire l'ultima in braccia uuuuuh nooo ah 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 ha perso anche mio figlio annaggia ah 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 come ha fatto ha perso aspetta pa come ha fatto ha perso mio figlio aspetta allora qui c'è due nessuno e ora mio Dio vabbè non si ora c'era il 133 vediamo cosa prende niente no niente non posso fare più niente devo arrivare a 500mila gem eh 605mila gem si così posso prendere pure io e si sai quando ci vorrà eh ci vorrà tantissimo tempo e che mi ha portato a me non ho freddo ma se ma se ti regolano a 50 gem forse ti da puoi fare eh sì ma lo sai che a febbraio ecco c'è una volta cioè a febbraio puoi shoppare lo Stamble Pass a febbraio sì a febbraio anzi fra un anno lo puoi shoppare a posto non c'è caglietta ragazzi sono stagliare a vedere la raccolta meccanizzata dell'Uval il desiderio è avere un emoto speciale no lo so io mi devo difendere non devo attacchiare ragazzi che miglior attacca la difesa guarda guarda ehi ciao ciao a tutti ciao sì ciao il mio figlio mi voleva prendere ma io sono scappato ciao ciao a tutti ciao ciao c'è a boomerang boomerang c'è a tutti vediamo se mi sminge qualcuno sì mi hanno spinto ho vinto per poca vinto per poca vinto per poca vinto fa per così vinto ho proprio caro oh no visto purtroppo ragazzi qua sono proprio scassi qua sono proprio scassi io sono un bichini cioè un vestito ooo oh bravo sei contento e non ti guardo più non ti guardo non volevi far perdere, un abbraccio a far perdere ora non mi invizi, ora sono nel rapinare che mi invizi speriamo che Proterex ti accetta l'invito non frega niente e vediamo un bloc d'asci ah si, me lo porto a mano proprio bloc d'asci, si si proprio bloc d'asci nooo, sono troppo d'acaduto vediamo, ci sono un po' di amici che è in sospeso questo non lo vedo più Fitto Fitto, non so chi sia, confermo ma Fitto Fitto è un altro amico la Ciccio Gamer si, io dirò ho perso vabbè adesso la cosa ci saranno alcuni più avanti di me che ti credi di fare? certo accettiamo, accettiamo, vediamo un po' vediamo un po' eh, eh hai vinto, bravo hai vinto mio figlio ha vinto, hai capito? oh, io sono più bello di te mia figlia ha vinto è contento è anche contento che ha vinto mio figlio ha, ha, ha ha, ha ha, ha ma tu stai a vita io stai a vita io stai a vita ho detto ma fazzappa la terra l'ultima partita penso che era il tuo Trex dai tu Trex sei l'unica chance che abbiamo ce ne frega noi ma come mi fanno ciao, ciao a tutti ciao amici ciao user troppo si mi hai scoperto si non mangia patate le patate ah, 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 ah allora cosa ne pensate ieri mi hanno pareggiato eppure la lascia pareggiata con un gol dei porti oh, si, qua ti potrei vedere stasera giocare l'Inter giocare in apri cosa faranno? un pronostico se che dovrai dovrebbero vincere tutti e due sì, ma quei capitati e poi forti eh, fortissimi, sì ma perché? dai, qualche perdi guarda, queste hanno invisibilità no no ah, ah si, ho perso pure tu, ah, ah ah, ah siamo tutti e due dei cacca ma, ah, ah, ah abbiamo perso i trappi sei proprio un cacchiamo sei proprio un cacchiamino ehi dai, andiamo eh, no, io, mamma perché io sono grande e forte andiamo no io sono un genio sì, un genio un genio, capito? un genio il mio figlio è un genio però se, vado, so che questa è l'ultima partita tu mi devi vedere se ti squalifici va bene? sì no, se mi squalifichi tu non ti vedo proprio abbandona proprio il video ah, ah, ah ma chi? che è uno? eh, ragazzi, questo è eh, ragazzi, questo è eh, ragazzi, io ci sono no babbo dai, faccio non ti non faccio non faccio fai quello che ti pare tu puoi fare quello che ti pare tu puoi fare quello che ti pare guarda che non vedo nessuno no questa questa si qualifica in due ma io manco mi qualifico quindi tutti qualifichi e basta come l'ho superato come l'ho superato grande 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 stava ancora all'inizio si si guarda po ciao si perché noi siamo ai forti gli altri sono scherzi sono messi io e mio figlio mio figlio è andato a caricare il cellulare e abbandonato alia alia ecco che c'è il gaspire l'hova Sì. A presto. Guardate mio figlio, cosa posso preparare. Vediamo chi vincerà, chi vincerà ragazzi. Sìììììì! Sììììììì! Sìììììì! Sìììììì! salutate tutti è colpa tua è colpa mia salutati tutti